Ebbene sì, è arrivato il momento di debuncare anche Platone ragazzi, sì, Marcel Minga versus Platone, oh yeah! Sentiamo le sue idee meravigliose, comodissime per il nuovo ordine mondiale, forse perché anche lui era un massone, su come vede lui, come dovrebbe essere strutturata la società, vediamo. Lo Stato è come un corpo. Quando è che il nostro corpo, noi come individui, funzioniamo bene? Quando le varie parti del nostro corpo sono in armonia tra loro? E quando le parti più nobili di noi dominano sulle parti meno nobili di noi? Cosa, cosa, che cosa? Lo Stato deve funzionare alla stessa maniera, proprio Platone pone un parallelismo tra Stato e individuo. Infatti, Platone immagina uno Stato organizzato in tre classi sociali. La parte razionale ha il suo corrispettivo nella classe dei filosofi o governanti. Il cavallo bianco, cioè la parte irascibile, ha il suo corrispettivo nella classe dei guerrieri. La terza classe, cioè quella che si lega al cavallo nero, alla parte concupiscibile, è invece la classe dei produttori o dei lavoratori. In realtà scopriremo che le classi sono solo due, ovviamente quelli in alto e quelli in basso. I comandanti, i governanti, i filosofi devono avere in particolare la virtù della saggezza. I guerrieri, cioè i militari, corrispettivo del cavallo bianco, devono avere in particolare la virtù del coraggio. I lavoratori e i produttori, cioè il corrispettivo della terza classe, della parte concupiscibile, devono avere in particolare la virtù della temperanza. Saggezza e coraggio, penso sappiate bene cosa sono. Temperanza, a volte i miei studenti non sanno bene cosa significa. La temperanza è quella virtù che sostanzialmente ci fa stare al nostro posto. Quella virtù che ci spinge ad accettare lo stato delle cose, a sopportare l'ordine naturale delle cose. Ad accettare il nostro ruolo, la nostra posizione nello scacchiere, nell'organizzazione dello stato. Lo stato si regge se ognuno accetta il proprio compito, se ognuno sa quale è il suo compito e rimane fedele al proprio compito. Questo genera giustizia, secondo Brattone, questo genera ordine. Se i lavoratori pretendessero di governare, quindi si volessero sostituire governanti, si creerebbe disordine. Se i guerrieri pretendessero di lavorare, non di fare la guerra, non di difendere lo stato, si genererebbe disordine. Se i governanti pretendessero di non governare, ma lavorare, si genererebbe disordine. Il corpo umano è la testa che dà gli ordini, no? E la mano, il braccio, esegue. Se il braccio decidesse a un certo punto di dare lui gli ordini e fare quello che vuole, il corpo umano non potrebbe far nulla. Per Platone l'appartenenza a una classe piuttosto che a un'altra è un fatto puramente psicologico, nel senso di, greco del termine, nel senso di anima. Psiche vuol dire anima. Quindi l'appartenenza a una classe o a un'altra dipende, tutta è un derivato della tua anima. L'anima è tripartita come tre sono le classi dello stato. Ma è chiaro che nelle persone l'anima tripartita presenta rapporti diversi. L'avevamo già accennato. Cioè ci sono persone che hanno, ad esempio, sì, certo, un'anima fatta di tre parti, ma magari tra queste tre parti la parte razionale è più sviluppata delle altre. Altre persone, invece, sono molto volitive, no? Allora, chi avrà una parte razionale più sviluppata finirà per rientrare nella classe dei governanti. Chi, invece, avrà un cavallo bianco più forte, cioè una parte irascibile più sviluppata, finirà per diventare guerriero. Perché i guerrieri che hanno il coraggio come virtù principale che vi ho detto devono avere questa grande forza di volontà. Magari non hanno la capacità razionale di scegliere, lasciano le decisioni ai governanti, ma hanno la forza, il coraggio, l'impeto di poter poi obbedire agli ordini della parte razionale, come il cavallo bianco, che non è lui che sceglie dove andare, è un cavallo, però quando la origa gli dà l'ordine di andare in una certa direzione, il cavallo bianco ci va con tutta la sua forza. Quegli uomini, invece, che non hanno una gran forza di volontà, non hanno una grande ragione, e invece si lasciano trascinare dagli impulsi, quindi hanno la parte istintiva molto forte, questi vuol dire che hanno un cavallo nero molto forte e finiranno per entrare nella classe dei lavoratori, dei produttori, perché non possono fare altro. Quindi l'appartenenza alle classi, ripeto, non dipende da chi è tuo padre, chi è tua madre, non dipende neanche da quanti soldi hai, non dipende da tutto questo, dal reddito, dalla famiglia, niente, dipende da come sei fatto dentro. Tu ci nasci fatto in un certo modo, non ci diventi. Le differenze psicologiche non sono differenze che si acquisiscono con l'età, con il lavoro, con lo studio, eccetera, sono differenze che sono già iscritte dalla nascita alla nascita nella tua anima. Alcuni di noi hanno l'oro dentro, quello che Platone chiama la parte razionale, cioè hanno qualcosa di speciale dentro e ce l'hanno da quando nascono. È nella loro stirpe avere questa natura. Alcuni altri sono d'argento e gli argentei sarebbero ovviamente i guerrieri, alcuni altri sono di bronzo, sono di qualità inferiore e ovviamente questi sarebbero quelli destinati a fare i produttori. È un meccanismo piuttosto aristocratico. A noi oggi un discorso del genere può fare un po' paura, ovviamente, perché partiamo dall'assunto che figli dell'illuminismo, eccetera, che gli uomini abbiano potenzialità simili, cioè che nascano uguali. Platone pensava di no, pensava che alcuni nascono con potenzialità da sviluppare, alcuni nascono senza potenzialità. Quindi per raggiungere uno stato giusto bisogna che ci siano divisioni nette tra le classi sociali, dice Platone, e ovviamente che ognuno accetti il proprio compito, che ognuno sappia stare al proprio posto, che ognuno accetti la sua appartenenza a una classe piuttosto che a un'altra. Ogni parte del corpo deve sapere qual è il suo compito, deve obbedire, lavorare, pensare a seconda della parte specifica, del compito che le aspetta. Nel modello ideale di Platone i governanti non sono elettivi, si trovano a governare perché hanno certe capacità e non devono rendere conto al popolo. Quelli che lavorano possono anche arricchirsi, certo, ma non hanno nessuna possibilità di incidere sulla politica, perché la politica è esclusa dal loro ambito. Lo Stato, per funzionare bene, deve controllare i cittadini, deve controllare la vita dei cittadini, deve controllare che ogni cittadino svolga il proprio compito e accetti di stare al proprio compito. Però per le prime due classi Platone immagina un modello completamente diverso, che spesso viene identificato come il modello del comunismo platonico. Infatti Platone non prevede forme di proprietà privata per le prime due classi. Questo comunismo non riguarda solo i beni, riguarda, a volte viene detto così, comunanza dei beni e delle donne. Intanto perché le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, secondo Platone. Se hanno l'anima fatta in un certo modo, certe donne, non tutte come certi uomini, non tutti, possono governare. Cioè cosa vuol dire? Platone rifiuta per queste prime due classi l'idea di famiglia tradizionale, in cui c'è un marito e una moglie che promettono, o me lo provano, a rimanere fedeli l'uno all'altro per tutta la vita. No, nel sistema platonico in queste prime due classi ci deve essere una rotazione delle coppie. Gli interessi individuali devono essere messi da parte in favore del bene dello Stato. Platone pensa ai figli un po' come a volte si pensa ai cavalli di razza o ai cani di razza. Voi sapete che a volte quando si hanno dei cani di buona razza o dei cavalli di buona razza o altri animali del genere, si fanno accoppiare, che so, il maschio e la femmina di buona razza per avere figli di buona razza. Governanti buoni si accoppiano da loro per dare origine a figli buoni. Non c'è promiscuità perché le coppie si formano e finché non fanno un figlio rimangono formate, ma una volta che hanno fatto un figlio si disfano per formare altre coppie, per aumentare la possibilità che i figli siano saggi o coraggiosi come i genitori. I figli devono essere, dice lui, tolti immediatamente dai genitori. Poco dopo la nascita il figlio deve essere strappato ai genitori ed allevato insieme a tutti gli altri figli di tutte le altre coppie di quella classe. In modo, dice Platone, che i genitori non possono più riconoscere il loro figlio perché da appena nati i bambini si assomigliano più o meno tutti e in pratica se li si mette insieme agli altri, dice Platone, la mamma o il papà non sapranno più qual è il loro, lo vedranno in mezzo a tanti altri, non sapranno più distinguere il loro da quello degli altri. Questo perché crescano già con la mentalità, in un certo senso, virata al bene non proprio ma dello Stato, della comunità e quindi anche le coppie devono voler bene a tutti questi figli perché sono i figli dello Stato, in un certo senso i figli che poi, presumibilmente, se tutto va come ci si aspetta, guideranno lo Stato. Questo è necessario per arrivare al bene dello Stato e quindi sono felici perché realizzano il bene dello Stato. Per imporre un nuovo tipo di Stato, uno Stato ideale, uno Stato che veramente funzioni, che veramente garantisca la giustizia, bisogna sopportare, in un certo senso, accettare tre ondate. Prima ondata, dice Platone, l'uguaglianza tra uomo e donna. Seconda ondata, le unioni sessuali, Platone afferma esplicitamente che lo Stato deve controllare le unioni procreative, cioè le coppie che si formano per fare figli. Se non si ha l'obiettivo di fare figli, cioè se si vuole stare semplicemente insieme e quindi, occhio che all'epoca non c'erano misure contraccettive, quindi presumibilmente per non far sesso, sostanzialmente, si può stare con chi si vuole, ma quando si tratta di fare sesso e quindi procreare, bisogna che lo Stato intervenga. Intervenga in maniera davvero capillare. Platone arriva addirittura a immaginare che lo Stato possa organizzare dei modi per far incontrare il giovane filosofo e la giovane filosofa e farli accoppiare. Terza ondata, che il potere sia affidato ai filosofi e che gli altri accettino di obbedire ai filosofi. Cazzo, mi è caduto un mito, Platone, sembrava sto cazzo invece la solita... Peggio da Marx, incredibile. Secondo lui poi le sue idee vennero adottate anche dal nazismo, perché addirittura lo Stato era talmente in controllo del tutto, della vita dello schiavo, che decidevano anche la morte, cioè se è eugenetica, cioè decidevano se tu non eri un prodotto buono, lo Stato aveva il diritto di terminarti. Come è appena successo anche qui, no? Che inizieranno adesso solo con l'eutanasia, a dirti ti daremo la possibilità di morire, ma poi si intrometterà lo Stato. Come si intromette lo Stato per esempio in Cina, che non ti fa fare più di un figlio, per dire, no? Piano piano, piccoli passi verso il nuovo ordine. Bellissimo ordine mondiale.